Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video preview Io sono Schettro e oggi sto per mostrarvi una piccola anteprima del disegno che sarà pubblicato mercoledì Ho deciso di fare un disegno su One Piece, su tre personaggi molto importanti di One Piece Ovvero il protagonista Luffy e i suoi fratelli Ace e Sago È un disegno molto carino perché sono le figurati tutte e tre da bambini In una scena molto piacevole da vedere E ho deciso di colorarla con gli acquarelli Io vi lascio qui con questa piccola anteprima e ci vediamo con il video completo mercoledì Ciao ragazzi Ciao